Forse tolgo la giacca così me le chiuso Ah mio dipende Sono una fame che ne ho due Piazza Ma di scema Mi verso una Red Bull Sponsor del canale non è vero Oggi siamo qui per un altro mukbang Mi sono praticamente autoinvitata Gli ho detto se ne è già che domani vengo che dobbiamo parlare di lavoro Ma chi le dici se facciamo un boombang? Perché io ho fame Cos'è che facciamo un boombang? Però abbiamo preso il sushi Abbiamo preso il sushi perché questa mi sta praticamente storcendo i testicoli Da tre settimane che vuole il sushi No, mocha mal di stomaco E mocha quello E mocha quella Che voi dovete sapere che prendere un appuntamento con Serena È come un po' come andare in guerra Non sai mai come va a finire Stamattina O una notizia bella o una cattiva Io so Allora siamo oggi riuniti su questo canale Perché dobbiamo affrontare un argomento molto piccante Oggi non vogliamo farci fare domande Ma abbiamo deciso di imporre Un argomento Un argomento Perché ne dobbiamo parlare ragazzi Dobbiamo parlarne perché è giusto innanzitutto dare insomma la nostra esperienza Siamo persone normali anche noi che ce la prendiamo nel deretano anche noi Padonna A volte E che consigli E che consigli Tra l'altro Visti i risultati Capito La sanità infatti sto andando da psicoterapeuta Tra mezz'ora ho l'appuntamento con la mia psicoterapeuta A parte di quello Parliamo di come affrontare la fine di una relazione Allerta Disclaimer Allora Giuro Riferimenti puramente casuali Nel senso In base a quello che noi abbiamo fatto Come abbiamo reagito noi Come secondo noi Può diciamo affrontare una cosa del genere Quali sono le diverse opzioni Perché magari Tu l'hai affrontato in un modo Io l'ho affrontato diversamente Poi magari se voi vi ritrovate un po' in quello che noi andremo a dire Se avete affrontato diversamente Non esitate a Divelo nei commenti Anzi Diteci come vivere Esatto C'è qualcuno che sa vivere tra di voi Ditecelo È un popolo di pettegoli fondamentalmente Sì Tutto che faccio Tanto belle siamo belle No Siamo bellissime Infatti Quando è stata la tua ultima volta Che me la chieri Quante relazioni serie hai avuto nel corso della tua life Quanti anni hai? 25? Sì 25 25 Tu? Non lo diciamo Allora io ho relazioni proprio serissime Ne ho avute ufficialmente 3 No 3 più 1 Avevo 14 anni Quindi non ne era Però comunque io le ho volute molto bene Allora io ho avuto Una relazione di 8 anni È vero Iniziata quando ero piccolina Avevo quasi 15 anni Quindi fai 14 anni Ma forse soltanto 3 con quella attuale Ho comprato casa In cui ce ne andremo a vivere Quindi facciamo 3 relazioni anche io È stata più tu a lasciare O sei stata lasciata Anche non di relazioni serie Generalmente Mi dispiace dirlo Perché sicuramente Poi mi arriverà Una di quelle inculate Che proprio Tutto quello che Tra virgolette Ho fatto agli altri Mi arriverà un'inculata Come avete capito È il karma Generalmente ho sempre lasciato io Tranne in un paio di casi Invece di relazioncine Di quelle de merda Perché o il tipo Tornava dalla ex Di cui ero innamorato perso E io ero un attimo lì di passaggio Allora attenzione Tutte le volte In cui l'ho fatto Non è mai stata Una decisione Decisione semplice Ho presa la leggera Cioè è sempre stato Una roba orribile È l'ultima cosa Che vorrei fare in vita mia Perché c'è sempre stata Una relazione seria Diciamo che Non dico che Dovrebbe essere così Però altrimenti Diventa Cioè vuol dire Che da una Delle due parti Non c'era sentimento Non era il sentimento Il problema Erano altre cose No appunto Dico nel momento in cui Invece la decisione Di lasciare una persona È una decisione leggera Cioè nel senso che Proprio dici Basso non ci vuole più Stare con questa Vuol dire che Manca un po' di sentimento In quel caso Tutta sta serietà Nella relazione Forse non c'era Sin dall'inizio Perché se amo una persona Ok che i sentimenti Possono cambiare Però È sempre comunque Una decisione difficile Se invece la decisione Viene presa alla leggera Vuol dire che Non c'erano sentimenti No infatti Secondo me Mio parere Per stare bene Entrambi E tra l'altro Non è stata una decisione Solo egoistica Secondo me Una cosa Della serie Ok La situazione è questa Secondo me Per risolverla È necessario fare questo Lasciarsi Poi io ho sempre messo Questo disclaimer Se è destino Non è rimasto insieme Sarà che sono un po' All'antica Sarà che non lo so Però secondo me Se ami davvero una persona E quella persona Ti ama E state bene insieme Non esistono pause Non esiste Non ci devo pensare Non esiste Io su quello Non sono d'accordo Non lo so Io Se mi chiedi una pausa Vuol dire che Non sei sicuro Dei tuoi sentimenti E magari stai attraversando Una situazione Non lo so Per me non esiste Il prendersi una pausa E poi tornare insieme Ci amiamo Io su quello Non sono d'accordo Ma perché A volte davvero Non è il problema L'amore È proprio che magari Io personalmente Tipo ho dei problemi miei E non ho proprio La forza mentale Di stare con un'altra persona Ma anche per salvaguardare Quella persona Cioè Lo so che è una roba stranissima Ma non sei tu Ma Cioè non sei tu Sono io Ma davvero Ma giuro Giuro Invece secondo me Se anche Se stai con una persona Vivi con una persona O comunque Vivi da Tanto tempo Mesi Magari ci hai trascorso anni Anche non convivendo Ma semplicemente Come relazione Se stai attraversando Un momento difficile Un periodo difficile Che sia in famiglia Al lavoro Tuo personale Un modo per affrontare La cosa insieme C'è E anzi Se tu mi vieni Mi dici Ti lascio Perché secondo me Tu sei meglio Senza di me Perché io ho i miei problemi Eccetera Io ti do un pugno in faccia Ma non esiste Ma noi stiamo insieme Affrontiamo i tuoi problemi insieme Non esiste che mi lasci Perché Hai dei problemi Affrontiamo insieme E basta Ma sai che io Non sono assolutamente d'accordo Cioè No per carità Attenzione Sono d'accordo Ma secondo me Non è applicabile A tutte le coppie Perché non sono la coppia giusta Il momento in cui Se c'è un problema Decidi di lasciarti Vuol dire che Non era la persona giusta Con cui trascorrere Il resto della tua vita Ma secondo me C'è anche Il problema di tempistiche Cioè A volte davvero Non è il momento giusto Esatto A questo si sono d'accordo In passato Anche quando ero più Ragazzina Io rincorrevo Un ragazzo Che mi piaceva Però magari per lui Non era il momento Perché non gli andava In quel momento Sono sempre stata lasciata io Mentre nelle relazioni Un po' così Ho lasciato io Ok Però Sei sempre riuscita a passare Oltre in modo egregio È finita questa cosa Vuol dire che arriverà qualcosa Di ancora più Quindi vabbè Tipo quando mi ha lasciato Il mio primo ragazzo Quello con cui sono stata A otto anni Avevo 22-23 anni E ho reagito Andandomene dall'Italia E andando a vivere in Svizzera Che non credo sia il modo migliore Per reagire Per avere l'ultima relazione Proprio sì esatto Però Questo è stato il modo In cui ho reagito A me mi è servito Perché appunto Sono andata a vivere in Svizzera Ho fatto le mie esperienze Ho trovato nuovi amici Un nuovo lavoro Eccetera Però ecco Ho reagito in questo modo Molto forte Quando nella vita Poi gli succedono delle cose Molto importanti Molto gravi anche Capisci che Le cose importanti Appunto sono Per cui piangere Sono altre E quindi Anche nella mia Precedente relazione Quando sono stata lasciata Sì sono stata molto male Sì ok Però dopo dici Ok Senti sai che c'è Ma io Comunque sono qui Sono viva Ho il mio lavoro Ho la mia famiglia Non è morto nessuno Ti va avanti Non era destino Fine punto Basta Secondo me Quando finisce una relazione Più che altro Stai male per i ricordi Ma sì Probabile Non stai male Perché effettivamente Oh mio dio La tua vita è finita No esatto Stai male perché Dici come farò adesso Senza Ma solo perché Manca poi l'abitudine Di avere quella persona accanto Ma nel momento in cui Ti ritrovi altre abitudini Senza quella persona Boh Fine passa tutto Anche questo è un appello Magari agli adolescenti Cos'è wasabi? Sì Sto per farlo Ma non è la mai Nella mia vita No Cazzo Cosa che volevo dire Ricollegandomi a quello Che stavi dicendo Secondo me Per affrontare La fine di una relazione È necessario Anche stare male È necessario piangere È necessario sfogarsi È necessario fare Tutto quello Che ci si sente Assolutamente Ma bisogna sempre ricordarsi Che l'unica persona Con cui devi convivere Per sempre Sei tu E basta Quest'altra persona Questa seconda persona Terza Qua tutte queste persone Che abbiamo intorno Sono sicuramente importanti Possono dare un valore aggiunto Alla nostra vita Sicuramente Ma l'unica persona Con cui tu devi convivere Devi stare bene Sei tu Punto E questo vale anche Durante la relazione Esatto Perché Anche Perché sono stata lasciata Perché io mi davo Proprio al 100% Nella relazione Quasi annullando me stessa Perché purtroppo Quando Anche ero più giovane Quando amavo Ero così Io quando amo una persona Do tutta me stessa Fino ad annullarmi E quindi È come un po' Se io mancassi un po' Di rispetto a me stessa Non mi prendevo i miei spazi Facevo tutto sempre Per l'altra persona In funzione dell'altra persona Esatto Quindi nel momento in cui Poi venivo lasciata Mi ritrovavo Senza neanche conoscere più me stessa Perché non mi ricordavo Neanche più come fossi Prima della relazione Esatto Invece Una cosa che ho imparato Anche adesso Nella mia attuale relazione E che ok Conviviamo Stiamo insieme Abbiamo passato anche 24 ore su 24 insieme Per mesi Durante questi vari lockdown Eccetera Ma siccome ho ottenuto Sempre la mia concentrazione Sì nella relazione Ma anche In me stessa Nel mio lavoro Nel rapporti di amicizia Nella mia famiglia Eccetera Riesco a non annullarmi Completamente Quindi A mantenere un buon rapporto Sia con il mio ragazzo Che anche con me stessa Di indipendenza Esatto Secondo me è fondamentale Infatti anche a me è successa Questa cosa Che nel momento in cui Mi sono innamorata Follemente Proprio c'è Da non capire più un cazzo Il procedimento però Inconscio È proprio quello Di amare così tanto Un'altra persona Da dimenticarti Di amare te stesso E quindi Entri in quel loop In cui dopo magari Tot tempo Dici Aspetta un attimo Ma Cioè Sono io che sto vivendo La mia vita O sto vivendo in funzione Di un'altra persona E sono i motivi Per cui poi Le relazioni finiscono Esatto La maggior parte Delle volte Ovviamente ci sono Mille motivi Cose Tra alimenti Cos'è Però Uno dei motivi principali Per cui finisce una relazione È proprio Il non ritrovarsi Come coppia Perché Ci sia nulla A vicenda E quindi Non lo so Nel momento in cui Non vivi più tu Non puoi pretendere Di vivere accanto Di un'altra persona Assolutamente Non è così Anche perché Poi passerai la vita E la relazione A cercare di coprire I buchi Dell'altra persona Ho detto così brutti Io gli schiaccio I fori Madonna che bello Tra virgolette Criticare O pretendere Che l'altra persona Migliori E cambi Per adattarti a te Senza renderti conto Che in realtà Tu primi Sai delle mancanze gigantesche E che quindi Non sarai mai Cioè Finché tu non aggiusti Secondo me Te stesso Non hai la possibilità Di avere una relazione Stabile Matura Dura Matura Si A fatto che comunque Non si cambi Troppo per voler Cioè per Per piacere all'altro Esatto Io ho il mio carattere Alcuni lati del carattere Di una persona Possono essere smussati Un po' Possono essere sistemati Non puoi pretendere Una persona Cambi totalmente Buongiorno Chiedo scusa Mi ero segnata Ai 45 Non in quarto Quindi Riassumendo Mai annullarsi Per un'altra persona Mai Anche se capisco Che può avvenire Automatico Un po' più giovani Dai Succede Assolutamente Ragazzini Succede Una cosa normale E io penso Una cosa fondamentale E che tutti debbano Viversi Esperienze della vita In maniera cronologica Come è giusto che sia Nel senso che adesso Io parlo da trentenne Quindi è normale Che ho vissuto Le mie esperienze Ne ho tratto Le mie Considerazioni E vivo di conseguenza Tu idem Però ovviamente Magari Una ragazza Un ragazzo Di 14 anni Che sta vivendo La sua prima relazione Importante Dice Sì ok Facile parlare Però è normale Quindi vivetevi Le vostre relazioni Le vostre esperienze E a fare le cose Col cervello Sì e anche Godetevela Perché se continuate A pensare Solo ai problemi Che ci sono Solo alle mancanze O solo ai difetti Tra virgolette L'importante è godersi Una persona Per quello che è Penso che sia Veramente sbagliato E ingiusto Provare a cambiare Ad avere una persona Come stiamo Dice Poi se va va Non va non va Facciamo un po' Di luoghi comuni Di detti Tipo Chiuso una porta Si apre un portone Morto un papa Se ne fa un altro L'erba del vicino È sempre più verde Ci sono più le mezze Le mezze stagioni Questo è tuo o mio? Il tuo Il cavaldonato Non si guarda in bocca Se sono rose Fioriranno Vabbè Va bene ragazzi Ringrazio Valérie Per le sue perle di saggezza Dall'alto dei suoi 21 anni Io vado dalla psicologa Davvero Mi hai chiamato eh Scriveteci nei commenti Come state messi Caccio cavallo Vabbè Ciao Buona Come si riuscite